musica 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 è andata quella in pizza e a Fatima Celli stava con tre quest'anno è andata quella si è lasciata, quell'altro è andata chi cazzo non fa fare a me? ragazzi oggi mi ha chiamato un mio amico mi fa senti andiamo in pizza un gulatte l'anno scorso è andata quella in pizza e a Fatima Celli stava con tre quest'anno è andata quella si è lasciata, quell'altro è andata chi cazzo non fa fare a me? musica 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 musica